Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come fare un glitch nella mappa confine con un operatore di difesa munito di scudo. Quindi selezionatevi un operatore che ha lo scudo mobile, dopodiché recatevi in questa stanza e collocate lo scudo praticamente qui, in questa posizione. Ora avvicinatevi allo scudo, premete X se giocate da Playstation per scavalcarlo e arrivare qui. Ora distruggete questi barattoli, piegatevi, cioè abbassatevi, guardate qui praticamente all'angolino del mobile fino a quando non compare la voce scavalca e voilà, siete saliti in alto. Diciamo che questa posizione è buona per chi viene da questa finestra e anche per coloro che vengono dalla porta, anche se diciamo è più adatta per la finestra. Magari un giocatore avversario che entra da qui si ritrova praticamente voi in alto che lo sparate. Quindi diciamo con questo glitch, se così possiamo chiamarlo, avete la possibilità appunto di salire su questo mobile.